se conosci bene Claudio Lotito chiaramente ci aspettiamo anche questo tipo di dichiarazioni dal Presidente della Lazio io mi sarei aspettato solo questo tipo di dichiarazione nel senso che il Presidente da un certo punto di vista ha ragione allora lui cosa dovrebbe dire sono tutti questi anni che ha la Lazio dal 2004 mi pare magari tolto il primo periodo l'hanno sempre contestato deve vivere sotto scorta e non è che può tutti i giorni dire quello che gli succede per via telefonica o in giro per la città dall'altro lato è anche vero che magari una difesa da parte della società e quindi anche del Presidente al proprio Capitano che è Ciro Immobile magari me la sarei aspettata dicendo magari difendendo Immobile e poi come alla fine della difesa ha detto sì però anch'io sono sono stato tutti i giorni